Il persecutore in sostanza è comunque libero, non si deve avvicinare alla casa familiare, ma chi glielo impedisce, chi è che controlla? I controlli ci sono e sono demandati alle forze di polizia, che non si lascia alla sola parola della persona, al solo impegno di non avvicinarsi alla casa familiare. Nel caso vengono applicate misure di questo tipo, come del resto gli arresti domiciliari o gli arresti in un luogo di cura, non è detto che ci sia un'evasione automatica, anzi a me sembra, nella mia esperienza, ma anche allargando un po' lo sguardo, che sono misure che tengono, certamente in alternativa ci sono delle misure più afflittive, perché queste misure possono non essere efficaci, o possono non essere efficaci trascorso un certo lasso di tempo, per cui possono essere efficaci per un mese, due mesi, tre mesi e poi no. Ora, noi dobbiamo sempre considerare che chi giudica è un soggetto che deve avere la terzietà, deve avere un'oggettività tale, prima perché non siamo nella fase del processo e non siamo a processo concluso, quindi dobbiamo valutare gli elementi che abbiamo a disposizione, che provengono dalla vittima e dal lavoro della polizia giudiziaria. Quindi un giudice è tenuto a valutare con molto scrupolo gli elementi che poniamo a disposizione, speriamo di porli in modo adeguato, efficace e completo.